Musica 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 Allora, questa è già, eh? Sta buonissimo, mi ha chiuso la sala a gusto, Riccardo! Al principio è con la luce, che devo... Sì, come tiene la caída? Sì, come tiene la caída? No, è antes... Sì. Questo è, lo vedi? Come si vede con il cepillo e la profondità, mira la profondità che tiene, lo vedi? Sì, lo vedi? Allora, dalle un peggio! Arriba! Esa è la regleta, però è con la altra mano, ahi te la hai cagato! Pasa hasta! Si, si! Si, si! Tere! 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 No, vai, vai! Tu te pongo nel claspa! Vale, vale! Lo porteas, si porteas d'aquí abajo! Bien! Tu lo tienes? Lo tienes cerca, no lo tienes aquí! Lo tienes aquí, te pita inercia! Vale! Tienes que estar en la mano aquí, a dos centímetros del culo! Eh, venga! No! Tiene ese canto, y zumbo arriba! Que estamos aquí! Estas muy alto! Ah, tu tírate! A tocarla! A tocarla! A tocarla! Salta! No puedo! Si, es la cabeza la que no te deja saltar! Pues no puedo! Claro! Es la cabeza la que no te deja! Vale, bájate! No te quemes! No te quemes! Está muy lejos! Si, si! Que? Está muy lejos! Porque es un lance, no? En el roco ese lance está super cerca! Y ahora aquí, desde al lado, para ajustar otra vez la mano! Esa! Pasa los pies por abajo! Por abajo los pies! Cambia el pie de sitio! Ahora abre el otro aquí! Más abierto! Más abierto! Ahí! Venga! Junta las manos! Junta las manos! Vale! Vale! Salta! Vale! Venga voy! Vale! Vale! Lanzad derecha arriba! Lanzad derecha arriba! Vale! Vale! Salta! Salta! Si en el bloque no te quemes ahí haciendo bloqueos! Salta! Y hasta que tú no tengas una secuencia clara! Claro! Claro! Me voy a fallar! No! Porque estás! Sumidero en energía! Sumidero en energía! Ahí te estás desgastando! Ahora viene el momento de reflexión de sentarme ahí enfrente y mirad! Si! Reflexiona! Si lo cojo con la derecha! Para donde se me va el cuerpo! Sabes como visualizar! Cuando estés en el canto! Si! Tu no te quedes bloqueado! Tu vas a tener! Un intento de hacer boom! Que sea bueno! Claro! Cuando llegues no pienses! No! Si! 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 Soledad No! Es que ni pienses! No tienen una sensación! Forza! Claro! Ese ni lo utilizo! Directo! Desde los dos que son buenos! Pum! Palmea! questo è cadere tutto, questo per lo meno wow oh yeah però dominao non vuole salire male, si fico un parto vale, falta salire vale vale E' già da lì per lì per lì. Certo, però è che non è ancora limpio. Lo riempi l'altro giorno un po' e vedo che l'ho fatto. Però mi piace con più craspa qui sotto, per lì per lì. Cogendo questo canto a due mani, il 95% del bloc, lo hanno fatto. Il calcettino sudano lo vanno a girare. Esos calcettino valen milioni. È che così lo faccio meglio, lo ves blanco e le metti la mano entera. Un po' di maquillaggio, un po' di oz. Si quede bonita. E' che ora lo vas a poner canto. E' che dove era? E' allì! 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 Fac let' veci qua! Boli la tiena! cobra! Tu lo ha fatto qui hauto! Lo devo? Vieni contextsi! Beh! C'è checie qui non può! Marca! �osceva dove? Que pazia mi! Vale! Saltate, salte! Marca cui non è collo! Marca dove arri? Te hai dentro? O che hai dato? Beh! Che es un tipo più fluido. quando tu prendi questa, questo ti costa un po' un po' passa di questo, tu allì, qui il movimento di qui, si precisa di che la mano izquierda arriva al sito, qui, al sito, e ora, cambia per non tenere che fare tanto... e il boi è che questo mi lo leggo al pezzo lo leggo al pezzo lo leggo al pezzo arriva, al blanco no, no, no vale, vale talonea, junta mano, ya sta si se lo pongo, un trago bien, che buono, eh che forte sta il cabello al pegg, al pegg lo leggo al pegg lo leggo al pegg si encima sali a vista vale pegg, sta abierto lo voy a repetir es che da con grana è guapo, va a moverlo questo è poeta opinia con illo? si, poi va caminando si, si che fuori sta ahi sta, junta ahi va va ahi va ahi limpia con la escalera pero me han caido los 3 piedi asi eso que limpiarlo bien tío miralo con lo que trago vieno con 6 crasps con 6 crasps aqui es igual tocai con las dos manos estas manos ahí termina el bloque si ya de ahí es chandato este talono ya le junta mano pilla ahi con derecha pilla ahi con derecha a ver arriba a derecha ahora hay cambio vieno 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 un poco mas de intensidad vieno a soltar el pie izquierdo se te queda hipotecado hay que dejar eso ahi se te pela se te pela carozo derecha o izquierda que le falta un cepillado Juan ostia que se te da un cepillo quiere sentirla con el cepillo quiere sentirla en el pecho mira 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 donde esta el canto lo ves lo ves donde esta mira donde esta el canto ahi te quedas tio mira si que eso es la matemática que falla ahi te quedas eh o no intentalo eh a lo tropeque hombre que saque gratis cruce arriba ahi a lo tropeque ahi ostia que bicho venga talon y junta venga vetele bien el talon y junta venga vetele bien el talon y junta vale descuélgate vale vale ya esta vamonos vamonos vale no estuco que se me secan ma dove stai? qui arriva ok, il mio top è questo vieni Lucia, full power vieni qui sotto vieni, height vieni, a la prima cierra a dove arrivi vieni ok, perfetto no, questo è da ayer del kayak del loco di che? alcuna parola sobre il bloco è stato potente è stato apretato però è stato faccio la verità è che il bloco è stato molto bello così, se ti ha piaciuto questo video non puoi perdere il prossimo perché avrà un altro lance una salida di invertido e un bloco di romos